Ma lui sta gestendo per lavoro. Riuscite a dire qualcosa a papà? In Germania. In Germania si sta... Si sta piantando di pomoio, perché per tutti... Vincenzo! 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 No, no, non è fuggita così, perché non è fuggita così. No, no, eh, eh. Che... Il cane si può fare su. Comunque noi hanno sposato tutti i figli degli italiani. Vieni qua, Ilaria. Sara! Ilaria! Sara! Guarda che c'è che sta! Sara! Sara! Te! La cioccolata, te! Sara, la cioccolata? No! Eh, guarda! Sara! Sara! La cioccolata! Ma la gira di... Tieni, salve! Ti stendi! Vuoi mettere? Sarebbe mezzogiorno! Mezzogiorno, mezzogiorno! Allora... 日本? Non, che fanno questa mattina? Come sono! Non è giù lo faccio! Come sono? Non è giù lo faccio! Perché abbiamo chiamato! Io so! No, no, non è ciò nel mezzo! E che è la trigio? Questo l'ho messo io, l'ho fatta io, ed... erano piccolini... E questo è tutto il lavoro che ho fatto io. Quella luce l'ho messo io. Già i colomini, io ne avevo preso i colomini. Guarda, questo lavoro qua l'abbiamo fatto io a frango. Eh, non stai a capire. Guarda che sono bello questi giorni. Mi insegnava. Guarda, tutto questo lavoro l'ho fatto solo io. Questa stanza qua non c'era. La vedi? Vedi? Certo, ma questo stava vicino. Mi diceva, dopo tanti anni. Qua è tutto blitz a terra. Questo pavimento a terra l'ho fatto io. Tu vuoi vedere una bella casa? Eh? Cioè, abitare in una casa con tanti figli e poi a vedere così. Diciamo, ma loro pure in Italia si sono... Guarda. Prendi sulla scala. E' la scala della cucina qua. Io so. Ma ci vorrei pure in pagina che il cedino in Italia si sta con lui. E perché? E perché l'America no? No. Siccome l'America dopo tanti anni, sape qua, ti vengono a dire quelli. Sì. Questa è la scala della cucina. La scala della cucina. Scendo giù. Sì. 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 Pensando qua... Guarda che spazio. È bello. Bregge a terra. Qui c'è a parte il bianco. Sì. Abbiamo aperto il cancello per le macchine. Abbiamo aperto il cancello per le macchine. Sì. Sì. Questi fiori, queste piante, li ho messo io. Bello, eh? Sì. 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 Mentre lui le rigurano. Sì. 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 È da giù. Dueci. Dueci. Io sono un mio, dammuntate, io sono un mio, dammuntate, dammuntate. Qui registri le cassette, vedi? Nomi, per favore. Allora, Sara, Giussi, Giussi, Vanessa, Francesca, Belagna, e poi ci sta mamma. Comunque ci mangia, nè Katia, mia nipote che ha 22 anni. Questa non è grande, questa è grande. Spera! Spera! Ciao, Gio, come stai? Spero che stai bene. E se ti ricordi, quando eravamo bambini. Ciao, ti saluto. Ciao. Ciao, Gio, come stai? Stai bene? Ciao, Gio. Ci vediamo qua. Eh, devi venire, devi venire. Devi venire tutti quanti, capito? Sennò io non vengo in America. Anche io, devi venire qua. Qua, perché qua, almeno ci vediamo tutti quanti. Eh, giusto. Andandogli in America. Spera, signore. Troppo presto. La speranza è la sua città. L'arrazione è la sua città. E tu le avevialle? Speriamo che tu ci vieni. Speriamo che tu ci venissi? Ah, l'arriere di... Speriamo che tu ci venissi dentro. Io ti aspettavo. No ti aspettavo, Alberto? Quello del corso. M'ha ricordo? Ah, del corso. Chè? Comunqueci? A proposito, l'hai caricato questa notte? Sì. Mi pensate, vorrei che io fossi corti, rimanere un mattino, funziona... Ho dovuto fare l'atto alla procura al marito della zia Rosa.